Amici di Ermitiro, quella che vi vogliamo presentare in questa circostanza è una carabina PCP, cioè ad aerea per compressa, decisamente straordinaria e fuori da ogni canone classico. Si tratta della carabina Daystate Alpha Wolf. Si tratta di una carabina che deriva direttamente dal modello Delta Wolf e che ha in comune con quest'ultimo una caratteristica fondamentale che è quella di essere intelligente e in grado di pensare. L'affermazione è molto meno azzardata di quello che può sembrare a prima vista considerando che tutta la parte relativa alla gestione dello sparo è servita elettronicamente e grazie a un display touchscreen è possibile fissare tutti i parametri principali relativi allo sparo. Quando dico settare tutti i parametri intendo dire proprio tutti a partire per esempio dalla velocità. Sì perché la Delta Wolf e l'Alpha Wolf hanno integrato all'interno del manicotto della canna un cronografo incorporato. Non solo, ma il sistema digitale che gestisce lo sparo, in funzione della velocità che si decide manualmente di impostare, regola automaticamente la valvola e conseguentemente consente di esprimere quella velocità che si è scelta. Velocità che, come è noto, può essere influenzata da diversi parametri, cioè per esempio dalla temperatura ambientale. La macchina si autoregola con un massimo di 3-5 colpi e dopodiché implacabilmente segnerà sempre la stessa velocità. È possibile impostare il peso di pallino, è possibile impostare appunto la velocità e il sistema in funzione dei parametri principali che sono stati impostati, consiglia anche una regolazione specifica del regolatore di pressione. Si può regolare agendo sulla ghiera che c'è qui davanti. Rispetto alla Delta Wolf, una delle caratteristiche più distintive è l'aggiunta di un nuovo calcio in legno laminato, molto particolare e anche esteticamente appagante, che nella parte inferiore presenta una slitta Picatinny, per esempio, crea l'installazione di un bidiere. Impugnatura anatomica con inserti laterali grippanti pirografati. Sicura al di destra. La leva di armamento è a ginocchiello. L'alimentazione è tramite caricatori a tamburo che tramite un sistema di magneti possono essere genellati e possono essere inseriti indifferentemente dal lato destro o dal lato sinistro e poi, una volta esaurito il primo caricatore, con un semplice spostamento si passa direttamente al secondo caricatore, quindi con una grande prontezza di indiego. Un'altra delle differenze rispetto alla Delta Wolf è che è stata inaugurata una nuova slitta per l'installazione dell'ottica con interfaccia Picatinny, che è aggettante, quindi diciamo tipo cartilever, ma soprattutto è inclinata di 20 MOA al fine di consentire la compensazione della parabola per il tiro alle maggiori distanze. La slitta integra anche una livella a bolla per garantire la perfetta assialità della carabinia. Si tratta di uno strumento estremamente sofisticato, ma anche ormai tecnologicamente maturo, vista l'esperienza che Daystate ha maturato nella gestione digitale dello sparo. Si tratta in effetti di quello che riguarda proprio il top di gamma per quello che riguarda la tecnologia delle carabine DCP. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Grazie a tutti. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto alla distanza di 50 metri sparando in appoggio anteriore con cannocchiale 416x44 e pallini a profilo Domed, cioè oggi vale, Rangemaster King del peso di 25 grani. Come si può notare le capacità di concentrazione sono decisamente gratificanti, tolto il colpo di scarto l'ha usata a misura 1 cm tra i centri più lontani. Grazie a tutti.